A Ravenna risiedono i paperoni delle pensioni, Fannalino di Coda della Romagna invece la provincia di Rimini. Secondo i dati elaborati dal Centro Studi del Sole 24 Ore, la media nazionale dei trattamenti pensionistici si attesta sugli 825 euro tra i 1142 di Milano e i 489 di Catanzaro. In questo quadro i pensionati della provincia di Ravenna risultano i più fortunati del territorio romagnolo, con un assegno di gran lunga più pesante rispetto ai vicini. In media, dopo la vita lavorativa, i ravennati incassano infatti 870 euro al mese e il 35% della popolazione è coperto da almeno una pensione. Diffusissime nei luoghi bizantini le pensioni di anzianità, tanto da posizionarsi come incidenza sulla popolazione al nono posto della classifica nazionale. Più negativa invece la situazione nel riminese. In media, a fine mese, i pensionati ricevono circa 750 euro, di molto al di sotto della media italiana. Inoltre, secondo i dati diffusi, solamente il 29% dei riminesi ha una copertura pensionistica valida. Nel mezzo si posiziona la provincia di Forlicesena con i suoi 785 euro medi. Va molto meglio agli anziani bolognesi, che in media ricevono a fine carriera un assegno di 965 euro al mese. Un quadro, insomma, molto variegato sul territorio su cui si innestano le nuove disposizioni previste dalla legge di stabilità. Tra le novità all'orizzonte ci sono la sperimentazione del part-time in vista del ritiro dal lavoro e le misure di salvaguardia per gli esodati. Intanto, dal 2011 al 2015, le pensioni in Italia sono calate dell'1,5%. Grazie. Grazie.